Dal report delle forze dell'ordine in relazione ai controlli effettuati durante questo fine settimana pasquale il gioco d'azzardo appare uno dei passatempi preferiti utilizzati in questo ponte festivo con operazioni che da una parte all'altra della provincia hanno messo in evidenza comportamenti sbagliati. A Giffoni per esempio giocavano ai videopoker nel retro del bar Royal in via Santo Spirito le quattro persone denunciate dai carabinieri e multate con una sanzione di 400 euro a testa per la violazione della norma anticovid. L'ispezione dei militari ha consentito anche di scoprire che uno dei videopoker utilizzati era scollegato dal sistema dei monopoli di Stato. Il titolare del bar dovrà ora rispondere anche di frode informatica. È stata disposta la chiusura per 5 giorni del locale. La stessa sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni colpisce anche un noto pub di Poggerola dove i carabinieri a seguito di segnalazioni relativi ad alcuni rumori e movimenti sospetti hanno effettuato un controllo nell'ambito delle operazioni volte a verificare il rispetto delle norme anticontagio legate al covid-19. I carabinieri della compagnia di Amalfi agli ordini del comandante Umberto D'Angelo Antonio sono penetrati all'interno del locale e hanno sorpreso sei ragazzi intenti a giocare a poker con tanto di fish e vari mazzi posizionati sul tavolo. Gli uomini della stazione di Amalfi hanno dunque sequestrato il materiale e hanno denunciato i soggetti per il reato di gioco d'azzardo ma dovranno anche pagare la sanzione di 400 euro a testa per aver violato la norma anticovid.